Questa mattina i cancelli della Fortezza Umberto I dell'Isola Palmarea si sono aperti per ospitare la terza conferenza internazionale sull'ambiente. E soprattutto ci ha ricordato un'altra volta come noi, verso l'alto, significare il proprio benessere. La provincia ancora una volta qui alla Fortezza Umberto I per parlare di ambiente, di territorio e di mare. Quali sono i temi di quest'anno? I temi sono i soliti. L'ambiente è un termine che è onnicomprensivo di tutto quello che è relazione fra la natura e l'uomo. Quindi la capacità che ha avuto l'uomo di trasformare le necessità che ha l'uomo per continuare a vivere sul territorio in rapporto con la natura. È un'occasione nella quale si prova ad approfondire i temi veri. Ho detto questa mattina in introduzione di un convegno con le scuole presenti che del termine sostenibilità è lastricato il mondo. Di buone intenzioni è lastricato il mondo. Bisogna davvero sostanziare con conoscenza, con approfondimento questo termine. Fare, realizzare delle cose sostenibili. Avere dei comportamenti sostenibili. Quindi dare concretezza a questo termine che ormai è acquisito nel linguaggio contemporaneo, la sostenibilità. Per nutrire la speranza, la speranza di un futuro possibile. Bisogna vivere in modo sostenibile. Per farlo in modo serio bisogna approfondire, bisogna mettere in campo conoscenza sempre nuova. E bisogna fare sistema, provare a mutuare le esperienze buone che ci sono sul territorio, sul territorio vasto. In Europa per questo lo chiamiamo, chiamiamo questa conferenza internazionale. I convegni della terza edizione dell'ambiente in Isola Palmaria sono iniziati proprio a parlare di ambienti rivolto ai giovani con un bando proprio per loro di geobiologia. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo quest'anno, promuoviamo la terza edizione del concorso Uniti per l'ambiente, il benessere e la salute. Il tema per il 2013 sarà il turismo sostenibile. Viene rivolto anche alle scuole perché speriamo che riescano con la loro freschezza, giovinezza, darci delle idee innovative su quello che potrebbe essere una soluzione di turismo con rivalutazione del nostro territorio, dei territori, delle scuole che parteciperanno perché possono essere anche il concorso a livello nazionale, quindi non è detto che siano della provincia della Spezia e rivalutazione del territorio attraverso delle soluzioni di turismo sostenibile, quindi con un basso impatto ambientale e una riscoperta di luoghi che spesso vengono dimenticati e non rivalutati come...